Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di QuelTaleale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022, pronti per il Gran Premio di Imola dopo aver visto la gara sprint di ieri con il nostro Buzzi che partiva dalla quattordicesima posizione, è riuscito a rosicchiare una posizione, come ho detto, purtroppo partenze non propriamente ottimali, in quest'anno non riesco a fare una partenza decente, ma va bene. E poi pian piano recuperiamo un pochino, stavamo raccattando un po' Ricciardo lì davanti, ma non abbiamo potuto fare miracoli perché naturalmente i giri nella sprint race sono veramente pochi, siamo lì a un passo dall'avvicinarci alle prime dieci posizioni per quanto riguarda l'obiettivo principale della nostra Stone Martin, nello specifico del nostro Buzzi, cioè quello di raccattare dei punti. Naturalmente va peggio della stagione reale perché naturalmente nella stagione reale hanno fatto molti più punti di quelli che possiamo vederlo anche da Sebastian Vettel che sta praticamente ultimo, che può fare qui in game. Però stiamo migliorando un pochino anche l'auto, piano piano. Con quale cattivaria? Vettel purtroppo signori non riesce ad aggredire, non riesce ad aggredire signori. Voi mi raccomando, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canali, mi raccomando, siate sportiveggianti. 7G e benzina lasciamola in abbondanza, facciamoci il giro di formazione. Seguitemi, mi raccomando, anche sull'altro sito per le live dove stiamo facendo altre serie, altri giochi, eccetera, eccetera. Che poi vi porto anche sul secondo canale, insieme anche ad altri titoli che vedrete. Quindi mi raccomando, date un occhio anche sul secondo canale dove faremo anche serie che non vediamo magari neanche in live perché qualcosa vorrei portare. Gli acquizza per dire, a caso, eh. Ma non solo, ma non solo. Dai, Ebuzzi, mi raccomando, mi raccomando, Imola, Imola dobbiamo cercare al decima posizione, diciamo, puntiamo come obiettivo decima posizione. Difficile. Forse non impossibile, non lo so, non lo so onestamente. Perché calcolate che l'auto è la peggiore... No, peggiore no, è quasi leggermente migliore della Williams, che è lei la peggiore. Quindi, insomma, arrivare a punti con quest'auto, sì, sulla carta è discretamente improponibile, però... Buzzi e buzzi, eh. Madonna che gommata, madonna che gommata! Con quale violenza Buzzi parte? Onesto però, eh. Bene così, bene così, abbiamo... C'è un po' di distacco da questi qui davanti, ma calcolando che nel primo giro scattano risse anche tra loro, insomma. Molto, molto violento, sì. Ci siamo prima gommati con... Non mi ricordo chi, poi ci siamo ritrovati incastonati. Con Daniel Ricciardo che abbiamo superato di spalla. Probabilmente Buzzi gli ha fatto il gesto... Guarda che ci abbiamo il Crick qua, quindi Ojo. Attenzione, qui davanti... L'ass di Kevin Magnussen! Rimaniamo... O meglio, proviamo a rimanere... In contatto con i piloti qui davanti. Purtroppo non è che ci abbiamo neanche sto gran motore, quindi... Mettiamo la scia l'Hertz, ma non lo siamo tutto, perché sennò siamo sempre in difficoltà con l'Hertz. Mamma mia! Sorpasso di certo non pulito... Cioè, non è che... La mia di mezzo! Può ritenersi non pulito perché siamo andati sul cordone, sui panettoni e quindi abbiamo perso... Questo è il problema, che perdiamo un sacco di tempo poi su quelli davanti, facendo sti sorpassi non puliti, che abbiamo perso tempo sia noi che... Il pilota che di solito subisce... Un attacco del genere, in questo caso è stato Kevin Magnussen, che infatti ha perso la posizione pure sul Ricciardo. Però... Di cuore va a buzzer, quello è il fatto che... Come gli fai a di no non supera... Se vede il pertugio... Lui ci si butta... E senza indugio... Ora cerchiamo di non perderci Gasly perché, come sempre... Ricordiamoci della... Possibilità di RS... L'altro Gasly nel My Team... Alla seconda stagione ha vinto anche il Mondiale con la Ferrari... Primo anno l'aveva vinta Sainz in Ferrari... Secondo anno Gasly in Ferrari... E poi noi con la sportiveggiante... Unplend... Poi Imola quando spingi è... Allora, Imola è sia difficile per quanto riguarda... Il non perdere trazione in determinate curve... Non andare in sovrasterzo... Di conseguenza in... Testa coda, sia in alcune curve... Non andare troppo larghi... È difficile perché se spingi tanto... Può capitare, come adesso... Che... Che ne vai un po' all'aceto... Perché poi là se la ributti... Troppo violentamente all'interno... Rischi di... Dare... Testa coda... Ho perso un po'... Non va bene... Adesso è il momento di RS... Dobbiamo... Tenere... Botta... E ritmo... Siamo in undicesima posizione, signori... Ad un passo... Ad un passo... Punticini... Eventualmente... Sperati... Dal team... Attenzione... Certo dobbiamo aspettare anche... Magari quando pian pianino arriveranno le migliorie... Per quanto c'è da dire che... Non siamo gli unici a fare le migliorie... Quindi... Anche le altre auto... Durante la stagione... Andranno a migliorare... Qualcuno... Forse anche più di noi... Perché noi comunque... Non possiamo... Modificare... E... Migliorare... Le strutture... Quindi magari con... Meno possibilità di guasti... Tempi più brevi... Quindi... Arrivo delle componenti... Però... Queste... Quindi dal quarto... Quinto giro... Iniziamo a... Trovare il nostro ritmo... Attenzione... Qua... Eh... Purtroppo ci aveva chiuso l'interno... La... Ci buttavamo all'interno... Ce ne andavamo... Probabilmente contro il muro... Però adesso... Eh... Questo è un grosso problema... Vedi? La forse conveniva... O alzare il piede e lasciar perdere... Ma come fai a dirglielo a Buzzi? Perché magari rimanevamo sia noi... Che... Gasly comunque in zona DRS di Norris... E così invece l'abbiamo perso tutti e due... Ma... Cioè l'abbiamo perso... Abbiamo perso Norris... Il DRS... Naturalmente Gasly non l'ha perso... Perché sta incollato a noi... Quindi... Non rischiamo di andare in lotta con Gasly... E perdiamo completamente... Il treno di quelli lì davanti... È un problema... Un problema... Box in questo giro... È il momento buono per il pit stop... Rientra i box alla fine di questo giro... Lascia fare signori... Facciamo... Anticipiamo invece del sesto al quinto... Proviamo a sorprendere... E via... Nessun problema... Insomma... Licio come l'olio... Aston Martin sarà sicuramente felice... Di questa sosta perfetta... E sicuramente scalerà la classifica... Curata prevista... Vabbè... 19 giri... Non abbiamo necessità... Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione... Quella era l'ultima... Sicuramente perdiamo tempo... Per scaldare le gomme... Però... Per provare... Cosa di diverso... Alcune informazioni sull'Atifi... La vettura ha un grave problema... A quanto pare dovrà ritirarsi... Safety car? No eh... No... Ok... Via libera... Freddissime... Freddissime queste... Medie... Bisognava un pochino... Sorprendere il gruppone... Non che al gruppone freghi qualcosa del nostro buzzi però... Oddio... Sono fermati adesso... Non credo possa funzionare l'Undercut con questi problemi di temperatura però... Qualcosa si doveva pur provare... Ricciardo si è appena... Si... Un passo con quello là... Gasly... Eh... Ma... Era prevedibile... Però... Era necessario... Anche perché ho visto che le soft non stavano durando tantissimo... Siccome la... La Stone Martin abbiamo già constatato il fatto che non è proprio stabilissima... Con le gomme... Già al 35%... Non si tiene... Noi stavamo con alcune al 32-33... Un altro giro l'avremmo fatto... Con un po' di difficoltà... Quindi probabilmente avrei comunque fatto... Il quinto... Il sesto giro... Eh... Lento ed in difficoltà quindi... Oh... Questo punto... Il problema è che... Il problema è che... Sosta per Sebastian... Non ci sono manca qui del DRS... Mannaggia la puttana... Per poco... E Norris l'abbiamo completamente perso... Mamma mia... Oh... Intanto... Un rallentamento... Ma... Al momento... Dovevo cercare di riprenderci la posizione su Gasly... Qualcuno si deve fermare là davanti... E noi prima stavamo davanti a Gasly... Ma eravamo decimi... Quindi... Oddio... Qualcuno però partiva con le medie... L'avevamo visto... Quindi... Vabbè... Se deve ancora fermare... Eccessivo... Eccessivo... E... Dobbiamo recuperare Hertz... Quindi usiamo il DRS... Per ora... Andiamo così... E teniamo sotto controllo Gasly... Poi come detto... Ci... Sarebbe un'auto... Che si deve ancora fermare... In teoria... Quindi... Dobbiamo puntare alla decima posizione... Signori... Quindi... Teniamo d'occhio Pierre Gasly... Marchiamolo stretto... Anche... Nella sua Alfa Tauri... Più sportiveggiante... Della nostra... Aston... Non saliamo sopra il secondo... Assolutamente... Però... Il Flerz... Lo uso per avvicinarmi... Per usare poi il DRS... Ma... Comunque non riesco... A tenerlo... Al momento... Ho un ritmo... Migliore Gasly... Dobbiamo migliorare delle componenti... Anche per recuperare... Un po' più... L'Hertz che al momento... Il sistema di... Recupero dell'energia... Fa discretamente cagare... Abbiamo lo stesso ritmo... Calcolando che noi utilizziamo il DRS... Sul rettilineo... Se non utilizzassimo il DRS... Penso che lo perderemo... Definitivamente... Qua arriviamo sempre sopra il secondo... Riuso un po' di Hertz... Per riavvicinarmi... Quindi non ce l'ho per... Spingere un po' di più... Devo stare qua... Perché se no me lo perdo... È un problema... È un problema... È un impasse... È un grosso problema... Ha perso il DRL... Ma non è vero... Eh... Eh... Così lo perdiamo... Così lo perdiamo... E... È un diametro... È un problema... Concentrati. No, ce la facciamo. È più veloce. Di poco, ma è più veloce. Di poco, ma è più veloce. Non è vero. No, ma è più veloce. Però abbiamo Magnus En. Eh, perché i stacchi sono sempre quelli. Qualche parte dove riguadagniamo qualcosina, qualche parte dove riperdiamo. Che fatica, signori. Che fatica. Eh, una parola. Prima dovevo tenere il distacco in un secondo. No. Qua perdiamo un bel cuore. Siamo proprio al limite. E' più che altro perché sento che l'auto basterebbe poco di più per girarsi male. Qua la staccata. Ho leggermente bloccato le gomme. Poi c'è da calcolare nel finale che lui avrà pure le gomme più fresche. Che però stiamo perdendo. Stiamo perdendo definitivamente. Facciamo un po' di Hertz. Sto per mantenere viva la speranza, signori. Anche se comunque prima manco con le Hertz ce la facevamo a recuperarlo. Quindi insomma, pure se rientriamo nella distanza di RS dicevano Hertz. Ciò non toglie che... Comunque è più veloce di noi. Se potevo tenere il pit al sesto giro, però ci avrebbe fatto... Cioè per carità ci avrebbe con i secoli... Ma non si sa mai. Ci avrebbe fatto soffrire a bestia perché noi... Comunque con gomme fredde speravo di... Perdere sì magari qualcosina durante il giro. Un po' speed stop però poi noi con le gomme più calde. Magari potevamo fare qualcosa ma... No. Aspetta, Hamilton è in box. Mette le soft. Doppia sosta per lui. E così entriamo in zona punti. Attenzione! Forse qualche danno per lui. Altrimenti non avrebbe senso rientrare e mettere le soft. Forse... Toccatina con qualcuno per gli US Hamilton. O strategia degli stronzi. Dipende un po' dai punti di vista. Ciò che è un po' dai punti di vista. E' un po' dai punti di vista. E' un po' dai punti di vista. No. lo so sti cazzi con due finiamo sto Hertz e buonanotte eh l'Hertz l'ho finito male lo gomme pure il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro un po' di scodata per Gasly ma comunque spinge poco da fa poco da fare gran lotta a distanza con Pierre Gasly che però purtroppo alla meglio non veramente non potevamo fare niente signori ho tirato a più non posso e fanno ai posti la tensione però però la decima posizione grazie al pit di Lewis Hamilton l'abbiamo acciuffata grande accibiate peccato Gasly si potevano fare tante cose come ha detto il pit insieme a lui e cercare poi di non farsi superare tante cose però insomma col segno di poi si può pensare a tutto ma al momento Resort erano da cambiare di primo piano in questo sport quindi è impossibile non esaltarsi per il successo di oggi doppietta Red Bull prima e secondo prima e terza oddio non ho fatto gas prima e secondo Max Verstappen stacca ancora di più gli avversari in classifica dopo una grande prestazione però guarda Buzzi per te direi la triste mietitrice dai mamma primo punto signori Aston Martin scala la classifica noi abbiamo fatto questo campionato solo per sentire questo che Aston Martin scala la classifica c'è da dire c'è da dire che comunque Aston Martin ha due punti Alfa Tauri quattro Alfa Romeo sei quindi noi ne abbiamo uno stiamo ancora lì nel mischione si può arrivare addirittura a sesti se proprio mettiamo della fantascienza in questa carriera tutto si può fare bene 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 allora stiamo battendo anche Albon non che sia di grande rilevanza la cosa visto che comunque Williams tra Williams e Aston Martin proprio due titani eh due titani in lotta vabbè comunque andiamo a vedere anche tra l'altro a livello componentistica può arrivare qualcosa arriverà qualcosa stiamo a piedi vediamo allora aerodinamica aerodinamica sono arrivati un paio di pezzi attenzione specchietti no quanti punti abbiamo eh attenzione allora facciamo questa qui che arriva è dopo il prossimo Gran Premio vabbè noi andiamo sempre con calma signori questo è arrivato tra due giorni e quell'altro ok dopo qua possiamo fare sì iniezione carburante vai con l'efficienza dell'iniezione che sennò qua ci sta resistenza un paio di cose sono arrivate però vorrei aspettare che arrivano perché tra due giorni arrivano quelle cose ma oddio ci sarebbe anche l'ala 1003 quindi vediamo se riusciamo a beccare qualche punto sennò vediamo un attimo aspetta un po' allora questi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione quindi adesso in linea 1003 ah maledizione geometria delle sospensioni effamà geometria delle sospensioni va ok allora un po' di migliorie le abbiamo fatte siamo sempre lì perché come detto pure gli altri migliorano se arrivano per tempo queste poi potremmo superare alfa tauri beh in realtà anche loro sviluppano quindi stiamo sempre punta a capo non è che va a cambiare tantissimo attenzione che volete la scuderia vorrebbe incrementare la visibilità del nostro marchio e richiedere un tuo contributo c'è qualche opzione disponibile qual è secondo te la più appropriata supportare una campagna di beneficenza fa bene agli altri e al contempo ci offre visibilità beneficenza intervista social media social media siamo veramente superficiali veramente molto superficiali ma fa notizie più un tweet o una beneficenza eh lascia fare raffreddamento hertz quindi insomma magari l'herz funziona un pochino chi lo sa vedi aston martin come rimane piantata perché alfa tauri adesso ha aumentato ancora di più la stanghetta quindi quando arrivano le nostre componenti noi comunque rimaniamo lì piantati dove siamo quindi è un po' complicato è un po' complicato ma ci proveremo signori voi mi raccomando che sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale seguitevi su tutti gli altri social l'altro super live secondo canale instagram eccetera commentino tattico mi raccomando e ci vediamo a miami tra le palme dai saluto a tutti da questa leale mi raccomando